Aldo, Aldo, il giorno 18 agosto 2018. Sono arrivato in alto, in Val Biandino. Ecco di fronte un bel rifugio. Sembra di essere in Trentino Alto Adice. Faccio vedere la valle da queste parti qua. Ecco la Val Biandino, provincia di Lecco. Sono arrivato su in Jeep. Questo è il rifugio dove sono ora tuttora. È quasi meglio del Trentino. Le montagne circostanti e soprattutto la valle. Da YouTube di Aldo Maspero di Ario.